Per i prossimi otto anni Trenitalia continuerà a gestire i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in Veneto. Lo ha deciso la Giunta approvando lo schema dell'atto di proroga del contratto tra Regione e Trenitalia fino al 31 dicembre 2023. Si tratta, spiega l'assessore ai trasporti Elisa Deberti, della prima e ultima proroga possibile, prevista dalla normativa vigente al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale. Trascorso questo periodo si potrà accedere con la gara. La scelta di prolungare l'affidamento all'attuale società deriva esenzialmente da due motivazioni. La prima è il consistente piano di investimenti di ben 100 milioni di euro che Trenitalia si impegna ad attuare fino al 2021, grazie al quale continua il potenziamento del servizio di trasporto con un occhio di riguardo per le aree di maggiore criticità. Inoltre, questo ampio lasso di tempo potrà essere convenientemente utilizzato per pianificare al meglio i contenuti della gara per l'assegnazione del servizio regionale che si sta predisponendo. Garantire un miglioramento della qualità dei servizi, in particolare della puntualità, tra gli obiettivi che il servizio si pone, inoltre la riduzione dell'affollamento. Nei prossimi cinque anni è prevista la rimodernizzazione della flotta a TAF con ulteriore 20 convoglie, l'acquisto di otto locomotive diesel di nuova generazione, quattro complesse Vivalto, sette treni tipo Schwing, oltre al potenziamento dei siti manutentivi di Verona e Mestre.